ciao a tutti i pinguine io sono franx e ben tornati in questo inizio video di pagamento a filo nello scorso episodio abbiamo battuto water water lui con un sacco di brutti colpi e sto registrando con le cuffie ditemi se devono continuare oppure no cose nuove strike strike è risalito a livello 26 ma non l'ho fatto evolvere perché mi sembrava brutto non fa cioè farlo evolvere off camera dovrei avere una no ok non c'è una caramella rara perché altrimenti gradava strike cioè logico questi allenatori li ho già battuti ecco perché non vedete che li batto e oggi siamo qui ho sbagliato percorso scusate oggi dobbiamo andare a catturare il quarto membro quarto membro del team andando di qua perché ci avevano dato alla casa vinci si l'ho fatto non preoccupatevi non l'ho fatto ora perché vabbè zig zagoon fai forza e forza spaccheroccia e qui c'è una lotta in doppio devo far salire gli ocotea al 30 e la farò evolvere in un bellissimo guarde va aggiungerei super mega bello psichico su magnemite pure se non è molto effetto e leaf blade sempre su magnemite perché c'ho paura psichic ok bastarei anche un po il volume perché ci tengo le vostre orecchie left blade ah ah strike strike è leggermente ender livellato dagli altri ma ma di poco è un livello questo dovrebbe avere il cogliottero e ho sempre cosa davanti vabbè oh no ecco te a quanto si forta eh strike vai tu strike ma ah ok ha questi attacchi per ora per ora io non gli farò insegn... non gli insegnerò onda sciocca perché non voglio cioè scusate se non glielo faccio imparare ma non lo voglio non glielo voglio fare imparare senza io senza gli è un magnifico è fortissimo oddio non è ora oddio cosi in mente senza riu per ora fa schifo ma poi intanto che cerco il mio no 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 mi rifiuto completamente oh mi rifiutavo completamente di avere di nuovo una femmina in squadra mi rifiuto oh oh fino al mezzo eh direi benvenuto fireflop no davvero questo è di tipo benvenuto nuovo membro del team direi aggigerei pokeball pokeball ha un cacciumo ah shit non bruciarmi strike per l'amor di dio 1 2 3 catturato bitches e ti chiamerò no 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 però you are fire perché è bello come nome me lo spero allora f ormai è una meme che non trovo le lettere yearfire se dovevo cambiare il suo soprannome me lo dite quindi adesso uh buono la raspberry cosa fa oh logico quindi adesso livello sedici 3 2 1 mi hanno dimenticato che stavo andando andammo mi stavo andando a culare quindi logotea sai com'è mi stavo andando a curare e mi sono ritrovato un geodude dentro alle rocce si si possono trovare geodude che bello eh quindi adesso con video esperienza grazie grandissimo strike no qua quindi adesso sedici ventinami tutti e ora siete pronti is guarde vuote l'ecotea si è evoluta in un bellissimo io adoro garde voa certo non è nella mia top ten top five scusate ma lo adoro alla follia prossima versione strike non ho più caramelle rare cioè logico avevo una caramella rara dall'inizio del gioco cioè inizio quella era la caramella rara della quizoteca della quizoteca vi porterò tutte le quizoteche prima della lega credo di portarvi tutte le quizoteche tutte prima della lega taylor strike l'ombre l'ombre acqua e in parte acqua quindi per due della bocca dai pezzo di merda però allora basta spera perché qua mi possono fare il mazzo mazzo di carte quindi per sicurezza grex davanti grex con leaf blade assorbimento c'è buone mosse il seguimento certo assorbimento si potrebbe cambiare anche lo sprite che fa leggermente care e mi capite comunque ehm airfire credo che verrà sostituito al mille per cento quindi si di suggeritemi il soprannome per airfire per il mio bellissimo per il mio bellissimo camera perché fra tipo tre livelli due livelli quattro livelli anche si evolverà quindi yeah qui c'è il team idro che ci sblocca si sblocca si si che ci blocca la strada ma nel attenti a ecco si si il namel ecco attenti al namel che se non avete mosse di tipo ehm 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 oddio le cose ehm siiii un sogno che aspettavo dalla vita ehm il mio namel è speciale invece di fisico quindi è buonissimo per me mia cioè ehm che figo grazie a dio perché gli farò imparare mosse ovviamente speciali camera sapete che non so se camera è speciale raspberry che sono sempre le stesse berry bacche però quando arriveranno le bacche cedro ehm ciao la ci sarà divertimento per questo cento non mi ricordo che per questo è si chiama questo allenatore fanta allenatore direi uh electric anche tu non fate polvere cioè io dovrò fare le cose se mi danno ahhh per ospe succhiamo se qualcuno mi dà delle caramelle una caramella rara mi sarebbe molto utile per farlo su un ca quella bocca gigante che hai c'entra pure un treno ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi fare si comunque strike alla ball diversa alla primer ball perché verrà cambiato tutti quelli che catturerò con ball speciali verranno cambiati mi dispiace perché ma electric è un buon pokemon tu dovresti dare ehm headbutt ah secret power potere segreto secret significa potere cioè si ehm qua se andate da questa signora vi correrà i pokemon che bello eh e ve lo richiederà finchè perché non morite però vabbè chi ho davanti chi ho davanti chi ho davanti vediamo airfire madonna bellissimo infatti si si può fare ti stai segando però no eh minchia mi sono bloccato da sol ok allora delle bacche arancia queste me le prendo perché servono certo se si trovano delle bacche a cedro beh allora si ma ti levi dalla minchia sto registrando con le nuove cuffie che ho comprato ok ok stop comunque airfire ah magnitudo magnitudo peggiore e magnitudo 4 o 3 comunque airfire è già al 30 quindi oddio hai raggiunto tutti gli altri ma no airfire sarei come una bestia beh mettiamo strike dai chi hai te una ultra orco duro ah poi i pokemon che non riesco a catturare con la pokeball riuscirei ovviamente catturerò con altre con 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 altre pokeball ok sport this is sport no no mame fucking ma vabbè quick attack no no quick attack quick attack quick attack non l'ho fatto evolvere nell'allenamento si perchè ho allenato anche lui wow perchè ovviamente mi sembrava brutto non farvi vedere una evoluzione e a parte quelle per riempire il pokedex diciamo per riempire ma poi basta ok allora mi lo dai un bel attacco stabato nella bocca o no questo mmm mi sono rotto il coglioni è voluto te ragazze mia brucia nell'inferno puttana ok airfire comunque speciale e spero che quando si evolva non diventa non sarà speciale Spinda buongiorno se continua ad essere speciale anche camera l'evoluzione direi aggiungerei sto fresco perchè più avanti si troveranno quasi più mosse cioè si troveranno più mosse eh vero più mosse speciali di tipo fuoco lanciafianne che è buonissimo come mosse chi è che ha su chi è che ha terremoto questo gioco non lo so perchè non avranno effetto GIA fa un culo ma voi ho delle bacche pesche ha 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 attaccati bestione attaccati nuvola fatta di gas su poriferi numero fatta di gas su poriferi questa è bella ok IR fire fra uno o due livelli si evolverà quindi raga avrò avrò usiamo un attimo la bacca arancia ciao santo per se non ci faccio un cazzo fico barri olli ehm allora farò un taglio finchè non troverò quello di spokamon tranne ora perchè ehm beh ciao trovinci perchè beh ehm se c'è un attento per fire amnesia difesa difesa speciale devo toglier devo mettere amnesia perchè mi piace cioè perchè è utile più che altro shhh take down amnesia cosa ha mandato leone 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 è l'evoluzione di uuuu ah che balle la bolla stavo dicendo leone è l'evoluzione di zigzagoon ok lo giusto bene finalmente quindi ora troverò quel pokamon in particolare oh mio dio santissimi dio santo dio quanto ci è voluto per trovare sto pezzente voi non sapete quanto ci è voluto a trovare metal fly oddio si perchè si chiama così ahhh oddio santo non sapete quanto ci è voluto voi madonna comunque è stata un'ora un'ora e seriamente un ci è voluta un'ora 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 solo per trovarlo trova soltanto spinda e l'altro pokamon che si trova qua e senso e no dovrei fare un altro click attack e lui mi uccide grinks ma tanto ciò no allora pokeball pokeball catturato 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 oddio raga che goduria un'ora comunque è passata veramente un'ora cioè oddio oddio catturato aspettate ok metal fly ecco dove è y? spero metal fly catturato yeah c'è trasporto c'è voluto l'eternità l'eternità ha anche una velocità niente male per essere lo schermo lì e quindi pinguini io per questo episodio può finire qui non so cosa abbiamo fatto non abbiamo fatto nulla credo che questo episodio si chiamerà non ho fatto nulla però benvenuto metal fly quindi ciao ciao ciao